Noi ci siamo, volevamo dire che c'eravamo durante il lockdown, abbiamo fatto tutto per servirvi, i nostri clienti, c'eravamo durante la ripresa, quando voi volevate tutto subito e lì c'eravamo. E ci siamo anche ora a servire l'industria, quindi osculati c'è. Le fiere internazionali sono state in gran parte annullate, annullata anche Amsterdam, chi fa accessori ovviamente è la fiera di riferimento, quindi le grandi novità si presentano tutte al salone. Qual è quella di cui andate più orgogliosi? Quest'anno un prodotto disegnato totalmente in casa dai nostri ragazzi, di cui siamo molto orgogliosi, è una gruetta telescopica completamente abbattibile a scomparsa. Un prodotto per le imbarcazioni che vogliono avere un design moderno, piatto, allo stesso tempo funzionalità, con una gruetta che è posizionabile in varie posizioni, in tre posizioni, più la parte abbattibile diventa completamente piatta.